Dal ring al palcoscenico, uno spettacolo che parla della sua vita, uno spettacolo autobiografico. Ci sono delle similitudini tra la sua vita sportiva e questa sua nuova vita da attore? Sì, io ho scoperto che c'è una similitudine incredibile tra l'attore e il pugile, ma soprattutto l'attore di teatro. Perché il pugile quando saliva sul ring aveva la consapevolezza che andava incontro anche alla morte, quindi si saliva sul ring con una grande tensione nervosa, con i battiti che sono a mille. Poi dopo suona il gong e chiaramente tutto questo svanisce. E mi è successo anche da attore teatrale, cioè quando sono dietro alle quinte ho paura che io possa dimenticarmi il copione o incespicarmi le parole e quindi anche in quel caso c'è la morte dell'attore. Poi invece quando si apre il sipario e le luci avvolgono, quella paura scompare e mi dedico completamente al testo, al pubblico e mi concentro e tutto questo va bene. In questi anni è sempre stato fortissimo il suo impegno per far comprendere ai giovani come l'impegno e il sacrificio possano riscattare anche una partenza in cui la vita ti ha dato poche carte. Sì, diciamo che il messaggio finale di questo spettacolo è proprio questo, che nella vita chi si arrende non vincerà mai. Quindi io racconto che nonostante provenga dalle macerie della vita, da una povertà assoluta, da un padre violento che scaricava la sua violenza su mia madre, la criminalità che cercava di intrappolarmi e portarmi nel loro mondo, la morte di mio fratello a 15 anni quando avevo 12, nonostante tutte queste problematiche, Patrizio invece costruiva la sua carriera da pugile ed è per questo il messaggio. Quindi anche se vieni dalle macerie della vita e pensi alla legalità può succedere che tu puoi costruire la tua carriera. Lei interpreta la madre di Oliva una figura centrale per la vita del pugile, proprio per la crescita. Sì, una donna fortissima anche nel nome, catena, che tiene unita la famiglia, è stata fondamentale nello sviluppo e nella crescita, nel dare forza anche a Patrizio e a dare un messaggio di unione familiare. È stata una donna, io la interpreto negli anni giovani, nel ricordo dei 30 anni, proprio nello sviluppo e nella crescita di tutti questi figli, una famiglia numerosa. Questo è uno spettacolo di grande umanità, un racconto decisamente popolare, un racconto di rivalsa, di coraggio, di grande amore. Il prossimo spettacolo sarà quello con Ennio Marchetto, che è un comico, cabarettista, trasformista. Sarà un appuntamento di grande leggerezza, di grande divertimento.